Ciao a tutti raga, qui ci sta i tuber, scusate la mia inattività, purtroppo io lo studio adesso l'anno, capitemi, poi ho anche altri interessi, vorrei proporvi qualche gameplay più in là, magari qualche registrazione e che ho avuto la connessione un pochino lenta ultimamente, comunque niente, volevo sponsorizzare una persona, mi ha mandato, mi vuole sponsorizzare, mi sponsorizzi ti prego, io ci ho mandato una risposta un bordello di tempo fa, certo più tardi perché sono uscito da scuola, ora lo sponsorizzo, andiamo qua, questo è gaming tf, allora, questo è lui, gaming ftl, mi scrivo, 184, buono, allora fa sempre live di fortnite, vediamo, per 4v è già 180 iscritti, è un potente, buono, andiamo, 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 si gira pure bene, si gira perfetta, questo è lui, comunque un bel like, spero vada avanti, comunque niente, questo è il canale, mi raccomando iscrivetevi, questi 100 iscritti che siete, mi farebbe fare un favore magari a sto ragazzo, magari a sto commentare, lo sostenete, comunque niente, vi saluto, bella a tutti, e quindi,